Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokemon Firehash, io sono Dwight Hoursphere e in questa parte andremo ad affrontare i portatori del Pokédex di Sinnoh, quindi Zaffiro, no scusatemi non Zaffiro, Diamante, Perla e Platino, ok? Andremo ad affrontare proprio gli allenatori e se vi state chiedendo come sia possibile vi rimando ai precedenti episodi dove ho spiegato appunto come funziona la macchina che ha alle mie spalle, chi sono i portatori del Pokédex e come si fa ad arrivare a questo punto del gioco dove si affrontano, essenzialmente long story short dovete seguire i 200 episodi che ci sono stati prima perché sì questa è proprio la cosa che si sblocca alla fine di tutto, quando avete fatto proprio tutto questa cosa qui si sblocca e potete fare queste battaglie, quindi abbiamo già fatto Red, Blue, Green, Yellow, Gold, Silver, Crystal, Ruby, Sapphire, Emerald ed ora tocca proprio a Diamond. Questo posto sembra essere l'isola di ferro. Guardate qui ci sono i suoi Pokémon ed eccolo qui, Diamond. Il mio nome è Diamond. Ho un istinto naturale che mi aiuta a giudicare gli stati in animo dei Pokémon e sono guidato dalle emozioni per questo vengo chiamato Empatizzatore, credo, Empatizer. Show me your skills. E iniziamo quindi la battaglia contro Diamond. Che ma nel campo Munchlax? Ok, andiamo di surf. E iniziamo a fare mega evolvere più o meno il nostro Grey Ninja. Eccolo qui. Poi, True. Eh, bella domanda, sarebbe interessante sapere chi è True. Boh? Ah, è Tor Terra. Per me è un bel Ice Beam se lo becca in faccia e muore. Infatti. Ti sta bene. Poi, Kit. Kit se è in cula. Allora, ma andiamo in campo... Boh, Donphan. Vediamo un po'. Ok, Likki Likki. Va bene. Heartquake. E ancora Heartquake. Perfetto, Donphan. A livello 75. Poi Reg. Qua me la sento di Heracross. E ho fatto bene. Regigigas. Alla faccia. Mega evoluzione e Zuffa. Vediamo se riusciamo a tirare giù. Ma poi se non sbaglio, Regigigas mi aveva un PS. Ah no, no, no. Ho detto una cazzata, scusatemi. Non so perché mi è venuta in mente questa cosa. Non ha alcun senso. Allora. Don. E chi è Don? Boh. Quello che sta all'oratorio. Allora. Bastion. Ok. Andiamo di surf su Bastion. Uh, resiste con vigore. Assolutamente sì. Il Don resiste con vigore. Allora, surf. Poi, infine, abbiamo Rotom. Ho finalmente un Pokémon che posso inquadrare e direi di farlo affrontare da Sceptile. Anche se non so quale forma posso avere, però. Ok, forma normale. Perfetto. Di Deathblade. Perfetto. Un colpo critico che pone fine alla vita del povero Rotom. Let's take a snack break. Vuole fare una pausa merenda. Sono troppo stanco. Magari dopo pranzo. Va bene. Ora, però, possiamo andare a sfidare. Dopo aver sfidato Diamond. Perla. Perla. Questo posto sembra essere Pastoria City. Ok. E se tu, Perla? E vabbè, buonanotte, vai. Il Determinatore. Guardalo qui. Il Determinato, molto probabilmente. Eccolo qua. Abbiamo il buon Berry. Che qui è stato chiamato Perla. Non so se sia canonico il fatto che Perla sia Berry. Nel caso, scrivetemelo nei commenti se lo sapete. Ma non credo. Mi aspettavo una ragazza, sinceramente, con Perla. Allora, Chimler. Sarebbe? Chimchar? Facciamo Greninja, allora. Sì. Quindi, prendi questo. Poi, chi ha? Railer. Non so minimamente chi possa essere. Boom, andiamo d'Omphan. Ah, che culo. Ammetto di aver avuto parecchio culo. Ok. Poi, Zeller. Boh. Mandiamo Heracross. Boh. Vediamo un po' come va. Contro Zeller. Ah, è Buizel, piccolino. Allora, contro Buizel possiamo tranquillamente andare di Missile Spillo. E fare abbastanza danno da ucciderlo tranquillamente con due colpi. Perfetto. Poi, Diggler. Lascerai in campo. Anzi, no. Diggler mi sa che qualcuno che scava. Quindi, mandiamo Greninja, se è un tipo terra. E infatti è Digglet. Diggler, va bene. E infine, chi mandi? Tawler. Sarà Tauros? Mandiamo in campo Heracross, allora. Anche perché questi allenatori non hanno Pokémon solo della propria regione. Hanno Pokémon di tutte le regioni precedenti, quindi è molto più difficile capire di chi sta parlando. Quando ci sono i soprannomi, eh. Perfetto, Heracross è a livello 77 e abbiamo sconfitto anche Perla. No, aspetta un secondo. Non accadrà la prossima volta. Ho capito quello che hai fatto. Cosa ho fatto? Esattamente. Non lo sapremo mai, perché ora me ne vado. Perfetto. Ed ora si va a sfidare Platino. Sembra essere il Monte Corona. Quale posto migliore per sfidare Platino, se non il Monte Corona? Il mio nome è Platino. Sto sempre imparando nuove cose. Ok. Cerco di acquisire sempre più conoscenza possibile. Per questo è stata chiamata Understander. Bo, colei che capisce? Colei che impara? Più o meno. Ok. La capitrice. No, ovviamente non penso sia così. La parola italiana giusta. Andiamo di surf e Rapidash si protegge. Attenzione, siamo stati catapultati in una lotta competitiva. Addirittura usano protezione. Ok. Poi Lopanni. Cambiamo Pokémon e mandiamo Heracross. Eccolo qua. Andiamo di Mega Evoluzione e Zuffa. Questa la prendiamo a botte che non si rialza più proprio. Questo povero Lopanni la disintegriamo del tutto, poverina. Ok, poi Empoleon. Ma sapete cosa? Ma le lascio Heracross. Le lascio Heracross e li tiro un'altra Zuffa. Ecco fatto. Un po' di massaggio al pancino, a quel pinguino e via. Buon shottato. Poi, Frozless. Sapete cosa? Facciamo sgranchire un po' Charizard. Una volta ogni tanto va anche bene. Eccolo qua. Flamethrower. Perfetto. Poi Pacirisu. Si, cambia Pokémon. E contro Pacirisu manderei Donphan. Eccolo qui. Allora, andiamo di Heartquake. Cos'è che usa Last Resort? Beh, ha fallito. Addio, caro Pacirisu. Avevano delle squadre molto più forti. Comunque, gli portatori di Pokédex precedenti, eh. Cerrim. C'è davvero Cerrim. Mandiamo Subtile. Sì, c'è il Red, Blue e... Sì, il Red e Blue è uno dei squadri molto più forti. Andiamo di Existor. Super efficace. Non muore, però. Inizia a caricare per il solo arraggio, ma non ce la farà mai a colpirci. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Platino. Ok, questo lo userò in qualche modo più tardi, nel senso, ne farò buon uso. Ho imparato così tanto da questo, grazie mille. Prego, chiamami ogni volta che vuoi essere distrutta. Quindi, siamo tornati nel mio mondo. Abbiamo sconfitto anche i portatori del Pokédex della regione di Sinnoh. Io quindi vi ringrazio per aver seguito anche questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare, facendomi sapere chi è il vostro preferito tra Diamante, Perla e Platino. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!